Ciao Gabri, registriamo sto trailer? Allora, buongiorno a tutti ragazzi, sono Marco Costanza, ho quasi 30 anni e sono qua, in questo canale YouTube, per parlarvi di benessere. Benessere di cosa? Finanziario, fisico, ma soprattutto mentale. Il mio obiettivo qua è quello di portarvi delle riflessioni interessanti che possono aiutarvi a fare un po' meno schifo in questa vita già piena di frustrazioni e delusioni. Insomma, vedremo insieme un po' di esempi, un po' di argomenti interessanti. Scusa Gabri se non ti spacco tutta casa. Quindi passeremo un po' di tempo di qualità insieme, facendoci perché no qualche risata, ma l'importante è avere energia. Questa è la mia umile dimora, qua intorno puoi trovare i miei video. Se ti va, inizia già a lasciare dei like così, sulla fiducia. e noi ci vediamo nei prossimi video. Grazie e a presto. Andata, Gabri, andava bene come in trailer? Ma c'è cagare. Ma c'è cagare, questo è il massimo.